Ciao amici, buon pomeriggio da Alessandro Comignani e benvenuti a Gazzibox Home Vieni con me e oggi abbiamo scoperto un po' di giù, un po' di giù, un po' di giù Il nuovo e rivoluzionario sistema di protezione per le caratteristiche Disegno per essere l'unico sistema del mondo proteggente con un patente internazionale che sa come combinare protezione e elegance grazie ad un'innovativa e esclusiva, perfetto made in Italy Iniziamo al futuro della composizione di Gazzibox Abbiamo una struzione in ero stile e galvanizzato finito con un coating di zinc per aumentare la durabilità e la resistenza alla corruzione Il top di Gazzibox è fatto da alluminio composto combinato con polietileno è un mix speciale di materiali speciali borrata da le migliori tecniche nel mondo di bambino che guadagna per garantire eccellente e lunghe resistenza a alta temperatura e agente atmosferale come la roccia e l'acido Il panel è fatto da coperti policarbonato con un mercato di mercato registrato di 4 mm di profondità e diventa un materiale con caratteristiche tecniche particolarmente suitabili per garantire l'estrame, il shock e il UV Praticamente infinito e un break mode Complete la foto Systeme forte e sicuro Il kit opzionale romatico permette l'apertura e l'apertura di due parti con il controllo remoto e il kit ha anche un sistema di batteria per evitare problemi in caso di scuola o per aumentare la protezione contro i bambini Finalmente ho trovato la porta preciosa per l'utilizzo di emergenza o come una porta normale Il tuo auto, il tuo motore o ogni tipo di obiettivo che non vuoi proteggerli sarà nei piedi stardi del Gazzibox e anche in un modo elegante Summarizzando Il principale avvantaggio sarà la protezione totale dal UV ray e qualsiasi agente atmosferico anche il più extremo la protezione dal excremento e dal guano animale particolarmente armful anche la protezione da scuola del nostro amico e da qualsiasi obiettivo che potrebbe accendentare dall'occhio diversi usi per esempio avere un piccino su un giorno di sole o di vento mentre sfruttando il risultato Il design particolare permette di mantenere l'utilizzo di aeroporto dentro del Gazzibox evitando la condensazione e evitando l'acqua evitando l'acqua eccessiva è bello arrivare in un carico in un giorno freddo potrebbe avere il tuo car sempre clean anche per usare ultimamente la privacità è rilassata da chiedere un color sull'acqua di pannella smogli o trasparente potete customizzare il tuo Gazzibox con un color che preferite per la struttura e la pannella applicate le luci usate come un luci o per la customizzazione potete trasformarlo da un garage in un carico e anche un bellissimo Gazzibo un perfetto tutto in uno potete rilassare rilassare e riposire il tuo Gazzibox come potete quindi non è necessario di spazio necessario l'acqua è facile grazie al nostro manuale ma se vuoi potete indicare il staff per l'acqua aiutare aiutare i componenti del tuo car sempre efficaci per essere più eco-friendly e consumare meno fuel abbiamo tre versioni disponibili Gazzibox premium caratterizzata dalla struttura delle pannella Gazzibox caratterizzata di pannella e Gazzibox albatros e tre strutture S M e L ci sono anche H ma le necessità sono valutate sono sicuro che i nostri Gazzibox avranno il vostro interesse è davvero una buona idea che stai aspettando un prodotto protettivo e esclusivo per fare il tuo lavoro con l'efficienza e la delegazione e oggi hai scoperto che puoi usare in molte mani mani prima di dire bene clicca sul nostro web e non dimenticate di seguire sui nostri social canali un saluto di Alessandro bai 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 bai